Tocca a me presentare il professore Daniel Margiora, lo conoscete tutti penso, dunque ad alta velocità, solo ricordare quindi che è un emerito come me, siamo emeriti, però mi deve il rispetto perché sono un po' più anziano di lui. E dunque, conosciutissimo, è stato quindi presidente, come dall'altra parte Christopher Tocca, che avete sentito ieri, è stato presidente della SNTS, la Società di Novi Testamento di Studi, il nostro club, diciamo, internazionale, quindi in quale anno tu? 2007 Ecco, è Tocca in 2013 penso, ok. Dunque, conosciutissimo nel mondo biblico, specialmente dai neotestamentari, che ha pubblicato quindi come editore e come esegeta, esegeta di alto livello e specializzato anche, non soltanto nell'approccio narrativo, tutti hanno e utilizzano nei nostri seminari, nelle nostre facoltà, il loro manuale che ha scritto con Yvon Burkin per l'approccio narrativo, che si vende come panini e che per sfizzeri, vedete, quindi è un pregio quindi notevole, dunque a livello finanziario, intendo dire. Non solo quello, a livello quindi narrativo, ma anche a livello esegetico, quindi la sua tesi, come lo sapete, sul giudizio, il giugno dell'Evangile di Matthieu, che è stato, diciamo, diffusissimo e conosciutissimo, lo stesso. E a livello storiografico, quindi allo stesso tempo esegeta, storico, questo è anche uno dei suoi doti da ricordare. Quindi ricordo solo in poche parole le sue maggiori opere, Gesù e Matthieu, oltre alla tesi Gesù e Matthieu, alla ricerca di Gesù dell'Histoire, quindi problemi storici, l'Exacte des Apôtres, il commentario famoso del Labor et Fides, e quindi i due volumi e molti articoli in tutte le riviste specializzate. Ecco, quindi siamo contenti e tutti felici di sentierlo sulla, diciamo, la storiografia del Libro degli Atti. E gli lascio la parola. La storiografia lucana fra storia e teologia. Come qualificare la ricerca lucana nel corso del ventesimo secolo? Direi che essa ha conosciuto due principali passi avanti. Il primo è stato quello di considerare l'opera di Luca come un dittico indivisibile. A Henry Cadbury va attribuito il merito di aver reso popolare tra gli studiosi l'etichetta Luca Atti, a partire della sua monografia del 927, The Making of Luke Acts. Da allora l'esegesi del Libro degli Atti non è stata più separata dall'insieme letterario e teologico costituito dall'opera Alteofilum. L'unità di autori del Vangelo e degli Atti, sostenuta fin dall'Adversus Aereses di Ireneo, non è più stata rimessa seriamente in dubbio e costituisce, detto per inciso, una delle rare tesi esegetiche che non sia stata messa in discussione dal tempo dei padri della Chiesa. Il secondo passo avanti dell'Egegesi Lucana è stato quello di situare il Libro degli Atti nel contesto della storiografia antica. Il pioniere è stato Martin Di Belius, il cui articolo del 948, Der erste Christliche Historiker, ha assunto un ruolo programmatico. Giannel 927 di Belius riconosceva che i procedimenti della Formgeschichte non erano applicabili al Libro degli Atti, il cui stile testimoniava un rapporto più libero con le fonti e una creatività letteraria di ampio respiro. Attribuire all'autore degli Atti il ruolo di storico significava che egli aveva interpretato e articolato i racconti che gli venivano dalla tradizione in modo da costruire un racconto storico coerente. Da un insieme di stori sparsi, Luca ha fatto storia. Per primo, egli ha fatto seguire il suo Vangelo da un racconto degli inizi del movimento di Gesù. In questo senso, Luca merita il titolo di primo storico del cristianesimo. Questo paradigma storiografico proposto da Di Belius si è rivelato immensamente secondo. I tentativi di collegare gli atti al genere biografico o romanzesco non sono stati convincenti. Essi si ricollegano, per il primo, a un aspetto del suo contenuto, gli elementi biografici dei personaggi del racconto, o, per il secondo, alle procedure narrative comuni al romanzo e all'astrografia, ma senza rendere conto del vero scopo dell'opera. Le analisi si sono moltiplicate, tanto sul confronto con l'astrografia antica, sull'intenzione teologica di Luca, che sul rapporto dell'autore con le sue fonti. Possiamo ormai considerare come acquisito per la ricerca, primo, che il lavoro storico di Luca si situa al crocevia dell'istrografia giudaica e greco-romana, secondo, che come la storiografia giudaico-elenestica, Luca attinge i suoi procedimenti letterari dagli storici greco-romani, terzo, che il tentativo di ricostruire le fonti di Luca è destinato al falimento, perché si scontra con l'intenso lavoro di riscrittura dell'autore. Nonostante il consenso degli studiosi su questo fondamentum, rimangono aperti in molte questioni. Luca è in primo luogo storico o teologo? Qual è lo scopo fondamentale del suo racconto? Questo racconto è storicamente affidabile. In che cosa Luca è discepolo di Paolo? Mi propongo di affrontare queste questioni in cinque punti. Primo, gli atti una storia kerigmatica, dove la costruzione di una memoria collettiva, tre, testimonianza e cristologia, quattro, è Luca uno storico affidabile, cinque, Luca discepolo di Paolo. Lì atti una storia kerigmatica. Quando Debelius conclude che, in fin dei conti, Luca non è un storico, ma un predicatore. O quando Henschen, nel suo commentario diventato classico, descrive Luca come un autore di edificazione. Si emette un verdetto implaccabile. Luca avrebbe voluto fare un'opera storica, ma la pressione teologica è stata troppo forte. In altre parole, l'ambizione storiografica di Luca è stata snaturata, falsificata dal suo orientamento teologico. Personalmente respingo questo verdetto, che appartiene alla dicotomia tra kerigma e storia sostenuta dalla teologia dialettica. Ma questa dicotomia non è pertinente. Essa deriva da una erronea definizione di un kerigma che sarebbe avvulso della storia. La tesi che io sostengo è che, in Luca, storiografia e proclamazione kerigmatica non sono due ambiti antagonisti che ci ostacolano a vicenda, ma due vocazioni intrinsecamente legate. Luca non è storico o teologo e gli scrive un'opera storica in quanto teologo ed espone un'intenzione kerigmatica in quanto storico. Il modo migliore per verificarlo è quello di analizzare il prologo della sua opera, dove gli espone la sua intenzione. Un'opera per insiders. Poiché molti hanno cercato di comporre un racconto degli avvenimenti compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari fin da principio e divennero servitori della parola, è sembrato opportunato anche a me Di questo prologo, ben noto, ricordo gli elementi essenziali. Luca si adequa all'uso attestato nell'astrografia greco-romana e codificata nei tratti di retorica. Presentare il proprio progetto all'inizio dell'opera che ci si aggiunge a scrivere mira a rendere il lettore benevolo attento e ben disposto alla lettura benevolo, attentum, docilem. L'autore si atteggia a storico ponendosi a una distanza storica dagli eventi. Fa riferimento ai suoi pergezzatori e risale la catena della trasmissione fino ai primi testimoni, coloro che ne furono testimoni oculari fin da principio. Per definire il suo racconto non usa il termine di Marco Vangelo ma il termine racconto di Egesis che designa propriamente un racconto storico. Inoltre, lui enuncia la sua deontologia storica, la sua presentazione, frutto di una ricerca minuziosa, sarà fatta partendo dall'origine, con precisione e con ordine. In breve, questo prologo mostra chiaramente i segni distintivi dell'antica storografia erudita. Tuttavia, se lo confrontiamo con i prologhi conosciuti degli storici, si distinguono due caratteristiche proprie. Da una parte non viene specificato il tema dell'opera, ma si usa il termine generico di avvenimento, pragmata. Niente autorizza a limitare questi avvenimenti al contenuto del Vangelo, dato che questa declarazione preliminare fa riferimento all'insieme dell'opera, come è confermato dalla sua ripresa in Antti 1, 1-2. I pragmata comprendono sia la vita di Gesù, la sua morte di risurrezione, che la vita dei suoi testimoni negli atti. Seconda singolarità di questi pragmati si dice che sono stati compiuti in mezzo a noi, en hemin. Intendo questo verbo compiersi al passivo come un passivo divino, Gli eventi che Luca si agginge a raccontare provengono da una volontà divina. Ma chi sono questi noi? Evidentemente Luca circoscrive qui un luogo sociologico di cui Elì fa parte e che comprende al tempo stesso i suoi lettori e il dedicatario e il dedicatario teofilo. Il noi rappresenta una comunità che è stata partecipe degli eventi che saranno esposti, una comunità alla quale i servitori della parola hanno trasmesso la loro testimonianza, una comunità alla quale appartengono al tempo stesso l'autore, gli ascoltatori, lettori e teofilo. quest'ultimo ha già beneficiato di una catechesi su questo tema e la dedica a si promette di fargliene verificare la fidabilità alle ESEA. Non c'è alcun dubbio, a mio avviso, non c'è alcun dubbio che si tratti di un riferimento alla comunità cristiana. Più precisamente, se si pensa alla storia raccontata negli Atti, una comunità che si riconosce inserita nell'eredità paolina. A mio avviso, i ben noti passi in noi che interempono a quattro riprese la narrazione appartengono allo stesso processo di veredizione e di legittimazione e si non solo garantiscono l'affidabilità storica degli eventi narrati, ma li situano in un mondo di significato al quale aderiscono gli ascoltatori lettori. In sintesi, l'opera lucana non è un scritto missionario, né un manifesto destinato a degli osservatori esterni. È un'opera storica destinata a persone intramuros, degli insiders, le cui convinzioni devono essere consolidate. un programma ambivalente. Il prologo che l'autore premette per Teofilo alla sua opera mostra fin dall'inizio l'ambivalenza del suo progetto storiografico. I pragmata messi in racconto fanno parte della storia universale, conformemente ai canoni della storiografia elenestica e si sono oggetto di una minuziosa indagine e sono disposti in un preciso intreccio. L'autore cerchera con nessun altro evangelista di situarli nella grande storia dell'impero romano. Questo non è accaduto in un angolo sperduto, dichiarerà Paolo di avanti alla corte di Agrippa. però questi stessi pragmata accadono in un piano divino che dà ad essi senso e giustificazione. Culturalmente il programma lucano articola sapere teologico ed erudizione greco-romana si situa tra Gerusalemme e Roma. Da una parte Luca è figlio della tradizione greco-romana. gli eventi riferiti devono essere descritti, situati, datati quanto più possibile. Dall'altra segue la tradizione storiografica giudaica secondo la quale il tempo a priori appartiene a Dio. Come il suo contemporaneo Flavio Giuseppe Luca si situa al crocevia di queste due grandi tradizioni. anche se il legame di Luca con la storoghiafia greco-romana è evidente da suoi metodi di composizione di cui il retore Luciano di Samosata fornisce un buon inventario fondamentalmente dalla tradizione biblica per il senso da dare agli eventi. A lui non interessa altro che la causa prima Dio. Tutto il suo racconto dipende dalla conviczione che Dio in molti modi visioni estasi invio di angeli interventi dello spirito fenomeni sopranaturali Dio precede orienta e provoca gli eventi secondo la sua volontà. Dio guida la storia e la storia deve essere letta teologicamente. La ricostruzione storica dell'autore degli atti si basa su un a priori la confessione di Dio Signore del Tempo. La sua è una storia credente e impegnata. Manca in lui qualsiasi distanza critica sulle cause degli eventi. ad eccezione del riconoscimento di Dio come autore. In questo senso Luca rompe con l'ideale di impazialità esaltato dai teorici della storiografia ellenistica. Un Tuccidide o un Polibio sottolineano il loro ideale la ricerca della verità all'eseia. nessuno dubita che bisogna dare loro credito per questa intenzione ma ma quella che oggi chiamiamo nuova storia ispirata ai lavori di Henri Irene Maroux Raymond Aron Paul Vein o Paul Ricoeur ci ha insegnato che non esiste atto storiografico senza ricostruzione e che la teoria precede la storia in effetti la soggettività degli storici antichi emerge sia essa nella priorità accordata al genio greco erodoto Tuccidide o nel disprezzo mostrato da un Polibio nei riguardi delle religioni in breve in breve si può dire che il razionalismo di un Polibio o il nazionalismo di un Tuccidide non è meno soggettivo della convinzione teologica di un Luca la differenza inegabile tra l'uno e gli altri sta nel fatto che Luca non è interessato a una storiografia critica che valuta confrota suppone per lui tutto si rivolge con la sovranita del Dio di Israele la storia kerigmatica se volessimo definire l'opera storiografica di cui è testimone il libro degli atti la definizione migliore mi sembra una storia profetica o meglio una storia kerigmatica infatti Luca non fa che esporre la storia della nascità di un movimento che dall'esterno sarà chiamato cristianesimo e li racconta come Dio con forza interviene per far avanzare questa storia inviando lo spirito santo liberando miracolosamente i suoi testimoni dalla prigione dotando apostoli e testimoni di poteri carismatichi sconvolgendo la vita di Paolo provocando estasi e visioni salvando Paolo della tempesta la storia che si sviluppa nel racconto degli atti è quella di Dio e della sua mano potente ma questa storia credente è al tempo stesso una testimonianza destinata al lettore il filo rosso che attraversa la nazione del alterne vicende dei inviati è una teologia della providenza Dio salva sempre i suoi anche nei pericoli estremi come le cortirazioni le minnacce di morte o la tempesta è infatto riduttivo dire che gli apostoli e i testimoni assicurano il diffondersi della parola nonostante le disgrazie che li colpiscono e si sono al contrario agenti del vangelo attraverso le miserie che li schiacciano la teologia di Luca non è una teologia della gloria ma del falimento providenziale e a causa della persecuzione che costringe i cristiani a fuggire da Gerusalemme che la parola migra in direzione di Antiochia dove sarà predicata ai non giudei e l'incarcerazione di Paolo a Filippi che porterà alla conversione del carcere a T16 e l'intervento della legione romana che salverà Paolo dalla collera dei giudei a Gerusalemme a permettere all'apostolo di dare testimonianza della sua conversione a Gerusalemme e davanti al re Agrippà in realtà in realtà il tema fondamentale del libro degli atti non è la storia della chiesa e ancora meno il divenire di una istituzione non è nemmeno l'attività dello Spirito Santo anche se a partire da Occumenio nel settimo secolo gli atti sono stati definiti il Vangelo del Spirito il vero eroe delle atti degli Apostoli è il Logos la parola la promessa del risorto che domina la narrazione enunciando il mandato affidato agli Apostoli costituisce costoro nello stato di testimoni da Gerusalemme fino ai confini della terra alle pentecoste subentra lo Spirito Santo creando le condizioni per la diffusione della parola Luca ovviamente non ritiene che la parola possa essere visibile senza la presenza attiva dei testimoni ma è evidente che a partire dalla pentecoste gli apostoli più che detentori di una parola da riferire sono i testimoni di una parola che li precede e dalla quale sono chiamati a riconoscere gli effetti nel corso del racconto la parola li precede piuttosto che agire tramite loro cresce si diffonde per la ragione per la regione e la parola che viene accolta e glorificata di Paolo si dice che è posseduto da essa a Dio e alla sua parola di grazia che Paolo affida i credenti in occasione del suo discorso di addio il pensiero di Luca è rabitato da una teologia della fecondità della parola ereditata dal concetto dinamico del dabar veterotestamentario la chiesa appare come una creatura avverbi i credenti sono definiti in base all'accoglienza e all'ascolto della parola leati sono un discorso della parola fatta carne ma in un significato diverso da Giovanni la parola di Dio un tempo rivolta ai profeti e non preesistente ai cieli ha preso corpo in Gesù a partire dalla Pentecoste essa si rende visibile nella forma di una comunità credente suscitata radunata e abitata da essa la costruzione di una memoria collettiva Luca fa seguire il suo vangelo da un racconto della nascita del cristianesimo è ben noto si tratta di un fatto di una novità assoluta nessuno nell'antichità ripeterà una cosa simile valutiamo con attenzione le conseguenze di questo gesto Luca è il primo nella storia del cristianesimo a far seguire la storia di Gesù dalla storia apostolica è il primo ad organizzare in modo narrativo la successione del signore e dell'apostolo o se si preferisce a stabilire che il vangelo è inseparabile dalla sua continuazione nella storia apostolica perché perché si deve a Luca questa fissazione narrativa di il vangelo e l'apostolo a mio avviso la riposta va cercata nella crisi che conobbe il cristianesimo negli atti 60 dopo la scomparsa della generazione apostolica questa scomparsa scatenò una crisi della memoria collettiva cristiana essendo venuti meno i testimoni di Gesù e si ha comporto per usare le categorie dello storico delle religioni Jan Asman il passaggio da una memoria comunicazionale a una memoria culturale Asman ha riportato in auge i precedenti lavori di Maurice Halbach sulla memoria collettiva come ricostruzioni memoriali del passato a smantarla di una mnemo storia o storia delle memoria che li definisce come la teoria della ricezione applicata alla storia la mnemo storia presuppone che la lettura delle fonti non ci metta in contatto con il passato in quanto tale i brutta facta cari al positivismo ma con un passato già interpretato le antiche tradizioni alle quali abbiamo accesso ci danno una visione del passato strutturata da un piano culturale e religioso il passato infatti non è un dato oggettivo ma una ricostruzione collettiva Asman distingue la memoria comunicazionale che abbraccia cito abbraccia dei ricordi che sono in rapporto con il passato recente e quell'uomo convivide con i suoi contemporanei dalla memoria collettiva che cito trasforma la storia fattuale in un oggetto di ricordo nel ricordo la storia diventa mito ma non per questo diventa irreale al contrario è solo allora che diventa realtà acquisita acquisita cioè una forza normativa e formativa durata dell'elaborazione di una memoria culturale rilevo che essa a si elabora a distanza dagli eventi b costruisce per il gruppo una storia fondatrice con un scopo identitario dimensione formativa si è accompagnata da un regolazione del ricordo che ne fissa l'interpretazione dimensione normativa secondo me secondo me è esattamente a questo fenomeno che ci si assiste nella scrittura di Luca Atti l'autore ha cercato di elaborare una memoria di Gesù accompagnata da una memoria apostolica allo scopo di preservare la tradizione delle origini e di lasciarne l'eredità alla cerchia della comunità paoline alla quella egli appartiene questo ambiente identificabile dietro il noi a cui fa riferimento la prefazione alla sua opera o detto in altre parole in altre parole è per l'ambiente paolino alla quale egli appartiene che l'autore ha composto la sua opera memoriale da Gesù a Paolo un'opera destinata a diventare la memoria ufficiale del movimento in realtà la motivazione esterna della composizione lucana è stata duplice alla scomparsa dei primi testimoni si aggiunge il deterioramento dei rapporti tra la comunità cristiana e la sinagoga un deterioramento che al suo tombo non è ancora un divorzio ma al quale poi porterà l'aggressività giudaica nei riguardi dei missionari cristiani è sufficientemente accentuata negli atti perché vi si possa vedere il riflesso di un'attenzione che l'autore conosce a questo rigardo la sua opera appare come la cronaca di una rottura annunziata tra Israele e il movimento di Gesù il finale degli atti suona come il falimento dello sforzo paolino di convincere i suoi correligionari chi sono i garanti della memoria culturale messi in scena da Luca Atti la prima cerca dei garanti è costituita dal gruppo dei dodici Luca presenta la sua definizione d'apostolato con le parole che mette sulle labre di Pietro ci ha accompagnati per tutto il tempo in cui il Signore Gesù andava e veniva in mezzo a noi incominciando dal battesimo di Giovanni fino al giorno il cui è stato di tra di noi assunto il cielo perché divenga insieme a noi testimoni della sua risurrezione contrariamente a Paolo secondo il quale è apostolo chi ha ricevuto un mandato dal risorto ma riprendendo il significato giudaico-cristiano e gerosolimitano dell'espressione Luca delimita in senso stretto la definizione di apostolato e fa dell'apostolos un titolo non trasmissibile avendo condiviso tutto il ministero di Gesù ed essendo stato testimone della sua risurrezione l'apostolo così definito assicura la continuità tra Gesù e i suoi seguaci la sua testimonianza deve essere pienamente affidabile non può essere soggetta a cauzione la scelta di Mattia per sotteggio completa il gruppo dopo la defezione di Giuda riportandolo al numero di dodici il narratore non menzionare non menzionera più questo apostolo sostituto la sua unica funzione narrativa sembra essere quella di ristabilire una continuità senza interruzione tra il Vangelo e la generazione apostolica una continuità che non può essere impedita dal tradimento di Giuda nella teologica lucana della continuità il gruppo dei dodici costituisce una grandenza erratica intoccabile essa assicura una doppia continuità storico salvifica con la storia di Israele da una parte ricomposizione simbolica dei dodici tribù con la storia di Gesù dall'altra la seconda cerchia dei garantì della memoria è costituita dai testimoni si tratta da una cerchia più ambia e ingloba i dodici che ne sono il nucleo iniziale il termine martus con il suo equivalente verbale diamartur romai gioca un ruolo decisivo negli atti passo al prossimo brano la memoria culturale che Luca costruisce attorno al binomio vangelo e apostolo elenca pertanto tre indici di affidibilità primo la comunità apostolica delle origini assicura la visibilità del signore assente secondo gli apostoli costituiscono un gruppo chiuso garanti del legame con il tempo di Gesù fino alla risurrezione compresa terzo mentre la legittimità degli apostoli è assicurata dalla scelta di Gesù quella dei testimoni Stefano e Paolo è garantita da una rivelazione celeste terzo tre testimonianza e cristologia come si concretizza la testimonianza negli atti i testimoni fanno memoria del Cristo in due modi con la loro parola e con la loro vita testimoni con la parola prendo come esempio la pregazione di Pietro alla Pentecoste a T2 perché ha un valore programmatico all'interno del macro racconto si tratta del primo annuncio pubblico del Vangelo e del primo annuncio missionario rivolto al dei Giudei la sua funzione è quella di spiegare alla folla di Gerusalemme il significato del miracolo delle lingue a Pentecoste questo lungo discorso inizia interpretando l'evento delle lingue con una citazione di Gioele 3 1 5 l'esperienza vissuta dal gruppo dei credenti porta a compimento l'attesa escatologica di una irruzione dello Spirito Santo su tutto il popolo e questo avvera negli ultimi giorni dice Dio io infandero il mio Spirito su ogni carne fin qui si potrebbe dire l'argomento è prevedibile il seguito invece lo è meno infatti invece di proseguire nella linea pneumatologica o sul tema del universalismo l'oratore passa all'annuncio carigmatico citando la formula di contrasto che ritornerà in seguito con diverse varianti Gesù che voi avete messo a morte Dio l'ha risuscato a questo annuncio carigmatico segue una lunga argomentazione scritturistica che corrompe i versetti 25 36 citazione di salmo 16 8 11 esegesi messianica di salmo 132 11 e citazione di salmo 110 1 questo percorso stritturistico può essere così parafrasato Davide proclama nel salmo 16 la promessa divina che non conoscerà la corruzione ma Eli è morto è sepolto questo vuol dire che la promessa si applica a un altro proveniente dalla sua dissendenza il messia che Dio ha stabilito alla sua destra nei cieli esaltato pertanto dalla destra di Dio egli ha ricevuto dal padre la promessa dello spirito santo ha effuso ciò che voi vedete e urite 2 33 possiamo apprezzare tutta l'abilità di questo discorso Pietro riesce a presentare il fenomeno dell'esplosione delle lingue a Pentecoste al tempo stesso come il compimento della profezia e come l'effetto della resurrezione di Gesù del resto e questo secondo motivo a prevelere sul primo l'esegesi dei salmi ha lo scopo di fondare nella scrittura la promessa della risurrezione del messia davidico il primo esempio di testimonianza apostolica presentato negli atti consiste quindi nell'integrare Gesù attraversa la risurrezione nella storia delle promesse divine la memoria di Gesù è inserita in una memoria che la precede e che la fonda il ricordo delle promesse salvifiche di Dio al suo popolo questo orientamento fondamentalmente cristologico incentrato sul compimento delle scritture nella venuta e nella risurrezione di Gesù si ritrova in tutti i discorsi missionari rivolti a giudei in un mondo in un modo o nell'altro l'intenzione retorica è la stessa integrare la memoria di Gesù nella storia di Dio con Israele su cosa si basa questo lavoro di memoria per rispondere bisogna andare alla fine del Vangelo più precisamente alla catechesi che il risorto rivolge ai suoi discepoli in Luca 24 quando il narratore dice che Cristo aprì loro la mente per comprendere le scritture e nunzia immediatamente dopo il contenuto di questa ermeneutica veterotestamentaria il Cristo soffrirà e risorgerà dai morti il terzo giorno il modello di un'esegesi cristologica delle scritture viene quindi presentato dallo stesso risorto e Cristo aggiunge voi ne siete i testimoni adempiendo questo mandato gli apostoli testimoni diventano i primi agenti di una memoria apostolica degli eventi della salvezza il cui narratore sottolinea doppiamente la legittimità essa si fonda al tempo stesso su una missione dell'esissorto e sul suo esempio testimoni con la vita ci sono le parole come ho detto ma anche le azioni la vita degli inviati del Cristo apostoli e testimoni ricalca il destino difficile e sofferente del loro maestro mi riferisco con questo al massiccio uso del progettimento della sincrisis da parte dell'autore degli atti questo progettimento conosciuto dalla retorica greco-romana e usata nei proghi masmata consiste nel tracciare un parallelismo tra due figure con lo scopo dichiarato di metterle a confronto facendo emergere al tempo stesso la superiorità dell'una sull'altra l'esempio più rilevante è fornito dalla vita parallele di Plutarco che alterna i ritratti dei buoni e dei cattivi imperatori la soncrisis non è un semplice parallelismo ma presuppone sempre un polo dominante la soncrisis in questo senso si ricollega alla tipologia una pratica ricorrente nella bibbia ebraica che consiste nel vedere in una figura antica il prototipo di una figura posteriore l'autore degli atti ne fa ampio uso allo scopo di conformare l'agire e il destino dei testimoni sul modello cristologico così come per Gesù la missione di Pietro e di Paolo si innescata da un invento di tipo visionario come Gesù Pietro e Paolo guariscono dei malati come Gesù risuscitano un morto Stefano il protomartire linciato dai membri del sinedrio muore in un modo che non può non richiamare nella mente del lettore la morte di Gesù ma c'è di più i testimoni di Gesù subiscono la stessa residenza la stessa ostilità che ha sofferto il maestro lo vediamo per Stefano ma anche per Pietro che è oggetto di un progetto omicida di errore Agripa il famoso parallelismo Pietro e Paolo spesso rimproverrato a Luca dagli esegeti che lo accusano di travisare la memoria dell'apostolo dei gentili non è dovuto a una volontà di petrinizzare Paolo ma di allineare Pietro e Paolo sullo scennaio della vita di Gesù bisogna parlare di un mimetismo cristologico le similitudini sono più numerose che mai nella modalità del processo di Paolo e il processo di Gesù il mimetismo cristologico raggiunge qui il suo vertice al punto che si può parlare di una passione di Paolo a immagine di una passione di Gesù in sintesi sia le parole dei testimoni di Gesù che il loro comportamento fanno memoria di Gesù lo ripeto il secondo volume dell'opera lucana non fa che aggiungere la memoria degli apostoli a quella di Gesù le parole dei testimoni diventano l'interprete autorizzato della venuta di Gesù e del suo significato salvifico la vita e l'attività dei dodici di Stefano di Filippo di Paolo e dei suoi compagni sono una continuazione una conferma un duplicato di quella del Signore la memoria delle origini non ci limita come in Marco al Vangelo di Gesù Cristo dal battesimo di Giovani fino alla scoperta della tombo vuota ma inclure la storia dei primi testimoni la cui attività convalida il Vangelo e ne confirma l'attualità faccio mie le parole di Jacques Dupont un grande gesetta del libro degli atti la salvezza venuta nel mondo viene proclamata cito da coloro che sono stati gli immediati testimoni della vita della morte e della risurrezione di Gesù la Chiesa è stata fondata una volta per tutte sulla loro testimonianza e in questa testimonianza si trova la norma definitiva della sua fede e della sua unità l'incontro dell'umano e del divino a questo riguardo rimane ancora da aggiungere una cosa l'autore degli atti ha cercato di far capire il modo in cui Dio agiva attraverso queste figure mediatrici del Vangelo quali erano gli apostoli e i testimoni lo mostro brevemente con l'analisi del concetto di opera Ergon esso ricorre a più ripresi negli atti ma soprattutto nei capitoli 13-15 dove è usato in riferimento all'azione evangelizzatrice condotta da Paolo e Barnaba in capitoli 13-14 raccontano quello che viene chiamato il primo viaggio missionario di Paolo 13-2 fa capire che l'evangelizzazione delle nazioni intrapresa per prima volta su grande scala da Paolo e Barnaba è un'iniziativa divina alla quale la chiesa di Antiochia dà il suo consenso mentre mentre stavano celebrando il culto del Signore e digiunando lo Spirito Santo disse riservate per me Barnaba e Sauro per l'opera Ergon alla quale li ho chiamati al termine del viaggio quando li inviati rientrano dell'opera che avevano compiuto il narratore nota che essi riferirono tutto quello che Dio aveva compiuto met Auton per mezzo di loro con loro l'Ergon assume qui una duplice qualifica è compiuta dai due inviati ma ma Dio agiva insieme a loro con loro questa duplice qualifica è indicativa una sinergia che Luca attribuisce all'opera missionaria questa è un campo di collaborazione tra l'umano e il divino Dio con loro 4 Luca uno storico affidabile l'approccio alla storia alla storiografia lucana sotto il tema storia e teologia non può non affrontare la spinosa questione del affidabilità storica del racconto di Luca che cosa Luca conosce e che cosa li inventa se messi a confronto con i dati delle lettere paoline gli atti sono stati spesso oggetto di derisioni tra difensori in genere di area anglosassone sassone e detrattori piuttosto tedeschi della storica degli atti la battaglia è sempre e ancora aperta è necessario fare qui qualche passo indietro e ricordo ciò che avevo detto con Jan Asman sull'approccio costruttivista alla storia il compito affidato allo storico di fronte al caos di elementi fattuali che gli vengono consienati dalle sue fonti è quello di presentare un quadro del passato strutturato da una trama la cui funzione è di collegare i fatti secondo una logica causale ogni produzione ripeto ogni produzione storografica e quindi un'opera di ricostruzione segnata dal dalla soggettività dello storico infatti la ricostruzione del passato che risponde all'esigenza di creare una memoria collettiva è orientata verso i bisogni del presente e la necessità di assicurare l'identità del gruppo sociale nel presente che guida la conservazione del passato pertanto la speranza di un accesso immediato ai brutta facta che guida la conservazione del passato scusa pertanto la speranza di un accesso immediato ai brutta facta è da classificare tra le chimere del positivismo ciò non toglie che a differenza del romanziere lo storico impone a se stesso un dovere di conformità alla tradizione documentaria sulla quale si basa a mio avviso ogni giudizio sulla fadibilità storica del racconto lucano deve tenere conto di due fattori la sua intenzionalità e la sua strategia narrativa primo l'intenzionalità ho indicato prima la duplice intenzione teologica di lucca dimostrare da una parte il legame tra il movimento di gesù e la religione madre dall'altra spiegare le cause della rottura tra cristianesimo e giudaismo questi due imperativi hanno guidato la selezione e la presentazione dei fatti nel racconto si possono così comprendere le ripetute affermazioni della loro identità giudaica sia da parte di Pietro che di Stefano e Paolo nelle loro azioni e nei loro discorsi si comprende anche il progressivo addombramento della figura dei giudei tra quella che viene chiamata con Gerard Lofing la primavera di Gerusalemme a T2 6 quando l'ostilità delle autorità è controbilanciata delle favorevole accoglienza del popolo e le sezioni finali del libro a T 21 28 dove si affronta a Paolo c'è solo una elite giudaica aggressiva che vuole la sua morte il narratore vuole creare questo scenario di deterioramento delle relazioni che pone Paolo nel ruolo di vittima e l'autorità romana in quello della potenza potretici secondo la strategia narrativa conforme conforme al canone dell'astorografia ellenistica Luca precede per successione di episodi narrativi l'episodio in stile la sua teologia più che argomentativa e narrativa il che significa che egli preferisce illustrare un concetto teologico attraverso una scena piuttosto che con una argomentazione il risultato più brillante di questa sua tecnica è la sequenza di Pietro e Cornelio a T10 11 dove una successione di eventi la visione angelica di Cornelio l'estasi di Pietro l'intervento dello Spirito Santo l'incontro di due uomini il battesimo in casa di Cornelio e il successivo dibattito a Gerusalemme espone al lettore le ragioni dell'estensione della salvezza ai non ebrei e la sua ratificata parte della chiesa di Gerusalemme piuttosto piuttosto che affermare che Dio è all'origine di questo sconvolgimento il narratore lo mostra all'opera piuttosto che esporre l'imbarazzo teologico che ne consigue e li fa parlare Pietro questa grande sequenza narrativa corrisponde a una cronica degli eventi molto verosimilmente no ricostruisce la dinamica di questa apertura alle nazioni certamente sì bisogna tuttavia rendere merito all'autore stando al modo in cui funziona la memoria la memoria dei leitori la scena di atti 10-11 si è impresa nella memoria cristiana molto meglio dell'argomentazione di Paolo in Romani 3 21-26 certamente Luca nonostante la sua competenza di ricercatore a tavolta ha voluto sola una conoscenza frammentaria del passato cristiano questo si può intuire in particolare dietro la sua presentazione della prima comunità di Gerusalemme a T1 A7 la successione poco accurata di episodi non collegati tra loro non dissimula molto bene la carenza di informazioni passo al prossimo brano domiamo quindi riconoscere una parte di finzione nel racconto lucano come per ogni racconto storografico la sua ricostruzione del passato è creativa narrativamente creativa perché il suo racconto avvinca il lettore deve elevarsi il vento della poesia l'obiettivo di affidabilità asfaleia che egli si impone nei riguardi teofilo non è nell'ordine della precisione documentaria ma della verità teologica passo al punto 5 Luca discepolo di Paolo come conclusione di questa mia lezione affronto un'ultima questione anch'essa spinosa nella ricerca lucana Luca fu un buon discepolo o un cattivo discepolo di Paolo fu un buono storico dei viaggi dell'apostolo o un cattivo testimone della sua teologia in effetti le differenze tra la teologia di Paolo secondo le sue lettere e la teologia di Paolo negli atti sono considerevoli non voglio ripetere una questione ben nota ma piuttosto interrogarmi sui criteri che favoriscono una presa di posizione infatti le risposte date dagli esegeti dipendono da due prese di posizione una storica e l'altra letteraria la presa di posizione storica riguarda il rapporto personale dell'autore degli atti con l'apostolo Paolo e voglio insistare sulla seconda la presa di posizione letteraria la presa di posizione letteraria riguarda l'accesso dell'autore alla tradizione paolina in che modo Luca ne fu informato le sue fonti letterarie non sono ricostruibili come aveva già constatato Jacques Dupont ma di che natura erano ciò che emerge dal suo racconto è di ordine biografico e narrativo piuttosto che discorsivo sarebbe del tutto anacronistico immaginare che alla fine del primo secolo l'accesso ai ricordi di Paolo fosse basato principalmente su un riferimento testuale la pratica della lettura era molto ridotta ridotta Luca eredita una memoria biografica essenzialmente orale il cui legame con la figura dell'apostolo non è standardizzato dai suoi scritti la memoria che Luca ha raccolto nel suo racconto è quella conservata nelle comunità da lui visitate la memoria del eroe fondatore è in questo quadro che si inserisce l'assenza di ogni citazione delle lettere di Paolo che arriva fino all'assenza di ogni attività epistolare attribuita al Paolo Lucano e questo rimane un enigma io ho difeso la tesi di una triplice ricezione della figura di Paolo nel primo e nel secondo secolo una ricezione documentaria la preservazione delle lettere paoline una ricezione biografica Luca e gli atti apocrifi di Paolo una ricezione dottrinale la redazione di una letteratura pseudoepigrafa doitero paoline e pastorali è evidente che al filone biografico di cui Luca è il promotore interessa l'eroe dell'evangelizzazione cristiana non il teologo polemista filone documentario o il dottore della chiesa filone dottrinale nella strategia lucana Paolo è diventato un'icona dell'identità cristiana gli elementi che Eli ha conservato sono quelli che alla fine del primo secolo servivano a configurare questa identità la continuita con la storia di Dio e del suo popolo israele Luca non fu certo l'archivista di Paolo la sua configurazione narrativa del personaggio testimonia uno sforzo di ricezione creativa interpretativa ed instanziata anche se ha portato ad un addomesticamento e a un ammorbidimento della sua vena teologica essa non transige sul valore incrollabile dell'eredità paolina si percepise qui il limite di ogni opera che abbia un'intenzione apologetica attualizza il personaggio ma ne conserva ciò che assicura nel presente la sua statura di fondatore conclusione la storia 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 lucana tra storia e teologia luca storico o teologo ho mostrato che questa alternativa è da respingere luca è storica è storico perché la parola si è fatta carne in un contesto umano che bisogna descrivere e teologo perché la storia è il luogo della rivelazione di dio sotto la sua penna la storia diventa cherugma e il cherugma si manifesta nella storia luca ha voluto essere lo storico di dio grazie per l'attenzione